Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio di nostra serie di Minecraft Ita Oggi c'è la seconda parte del tour della nostra vanilla Ma prima di iniziare, oltre ad invitarvi a lasciare un pollicione in su Cerchiamo di superare tipo i 2343 like per questo video Volevo chiedervi una cosa Qua sotto nei commenti dovete tutti quanti commentare con hashtag VanillaM delle idee da fare all'interno della vanilla Potete consigliare la qualsiasi cosa, quindi sia cose piccoline da fare e anche cose giga enormiche Naturalmente cose giga enormiche non verranno fatte subito, sempre se fattibili Io preferirei delle cose un pochettino piccoline Chi mi andrà a consigliare delle cose che farò all'interno della vanilla Verrà aggiunto al tempio degli iscritti che vi mostrerò oggi nella seconda parte Del tour Detto questo, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale Se ancora non vi siete iscritti attivando la campanellina E direi che possiamo iniziare subito Perfetto ragazzi, eccoci qui Allora iniziamo subito Qui oltre ad esserci l'uovo del drago che è ancora qui fermo da tipo 100 episodi Oh mio dio, fermo qui da 100 episodi ragazzi Scendiamo un attimo sotto perché nella prima parte non vi ho fatto vedere una cosa Ovvero una stanza segreta veramente bellissima Si trova qui, però mi stai dicendo dov'è? Ok che è nascosta, ma com'è l'attivo? Dove girare forse questa torcia, qualcosa? Semplicemente ragazzi dove fare tasto destro qui E si andrà ad aprire in automatico la stanza segreta Ancora non ci ho fatto nulla, cosa posso farci qua dentro? Qualsiasi idea scrivetela qua sotto nei commenti con l'hashtag VanillaM Andiamo a richiudere il passaggio segreto e saliamo al piano superiore Perfetto, adesso invece vi mostro un'altra cosa Premendo questo bottone qui ragazzi Si aprirà questo passaggio segreto dove dentro c'è una mucca Che si chiama Sabrina Questo nome l'ha dato anima nel episodio numero 10 alla mucca E quindi si ragazzi, nella vanilla adesso abbiamo la mucca Sabrina Si, direi che adesso possiamo passare invece ai razzetti E quindi vogliamo con l'elytra Perché vi porto in un punto C'è una cosa leggermente vergognosa nella mia vanilla Eccole là Eeeh Eeeh E' una citazione a Greta Menchi Tutto qui ragazzi, basta Pertanto possiamo andare da un'altra parte Mi dispiace per tutto questo ragazzi E passiamo subito All'orologio Questo qui ragazzi è un orologio che per ora ho dovuto fermare per sistemarlo Perché da come avete visto nel roleplay ha avuto un problema E quindi non voglio per ora azionarlo E' un orologio completamente automatico Ovvero che segna l'ora di Minecraft In qualsiasi momento Quindi è perfetto Vi mostro velocemente il meccanismo interno Senza spiegarvelo perché ci metteremo Sono 42 anni E' un meccanismo tutto in redstone Ultra compattissimo Veramente pazzesco Eeeh Non ci capisco niente pure io per poco Salendo per tutte queste scalette infinite Arriviamo in cima Al nostro orologio automatico Iper mega archi Compatto E raga Eccolo qua Vediamo se riusciamo ad uscire da lì Se ci riusciamo ragazzi Voglio un like subito Per me non ce la facciamo raga E ora come esco Ok Ho trovato come uscire ragazzi Perfetto Ottimo Bene Riscendiamo piano Ok Chiudiamo la porta E iniziamo adesso pian piano A vedere tutta questa zona Qui ragazzi Abbiamo un bellissimo ponticello Con queste redstone lampe Che si vanno ad accendere In automatico di notte Questa ferrovia Sinceramente non la calcolate Che poi dovremmo anche elevarla Qui abbiamo una piccola farm Di cactus Che è Oddio Farm di cactus Ho messo dei cactus a caso Fine Qua invece abbiamo La nostra Farm di pecore Oddio Farm di pecore Ho messo delle pecore a caso Infatti dovrò anche migliorarla Sono di tanti colori E va bene così E qui invece abbiamo la pecorella Jeb che cambia sempre colore E abbiamo un pollo Che si crede una pecora Per di qua ragazzi Abbiamo Il monumento Per i 100k E in realtà dovrei fare anche ragazzi Il monumento Per i 150k Vi propongo una cosa Provate a costruire voi Su un mondo di minecraft Un monumento Per i 150k Fate uno screenshot O una foto E me l'ho mandato in direct Su instagram Oppure nel email Che sta qua sotto In descrizione Il più bello Lo andrò a rifare Dentro la vanilla Passiamo adesso Alla torta La torta ragazzi E' veramente particolare Perché l'ho fatta Non mi ricordo per che cosa L'ho fatta la torta Per essere sincero Attorno abbiamo De bignè Dove prendo questo bottone Spunteranno i fuori D'artificio E bignè fatti Per il mio compleanno E all'interno della torta Abbiamo una farm Semi automatica Di cacao E una farm Automatica Di canale da zucchero E guardate Quanto è efficace Ma c'è una cosa bella Qui Un passaggio segreto Premendo questo bottone Si aprirà Nel pavimento Questo passaggio segreto E all'interno Troviamo Tre stanzette Una è vuota Perché ci servirà In futuro Qui abbiamo la nostra Farm di mucche E la farm di polli E da questa parte Abbiamo invece C'è la farm Sia di grano Che di carote E patate Fatte con i villager Ed è completamente Automatica ragazzi Veramente bellissima E utilissima Cioè funziona Da dio Premendo questo bottone Ristariremo di nuovo Al piano superiore Opla È uno dei sistemi Più belli Che mi piacciono Sulla vanilla Passiamo ora A un pezzo Veramente forte ragazzi Il tempio Degli iscritti Questo tempio ragazzi L'ho creato Insieme degli iscritti E appunto L'ho dedicato a voi Dove all'interno Andrò a mettere Chi farà le donazioni Durante le varie live Chi sarà il mio sponsor Del canale Come vedete Metterò anche Le vostre testoline Di minecraft E andrò anche a mettere Chi mi scriverà Nei commenti Dei consigli Sulle cose da fare All'interno della vanilla Infatti come in questo caso Uno di voi Ovvero Fox99 Ha dato l'idea Della spiaggetta Che ho fatto Appunto là sotto Che abbiamo Leggermente saltato Anche perché c'è Una cosa particolare Quindi si Vi ricordo Sbizzarritevi qua sotto Nei commenti Con l'hashtag Vanilemo E con tutti i vostri consigli I più belli Vi andrò a mettere Poi all'interno Del tempio degli iscritti Ritorniamo un attimo qui Perché voglio mostrarvi La spiaggetta La spiaggetta È molto semplice Non di particolare E qui Abbiamo un piccolo Castello di sabbio Dove Provendo questo bottone Si apriva un piccolo Passaggio segreto Dove dentro Non c'è nulla ragazzi Non c'è consumitamente nulla Inutile Entrarci È lo stesso funzionamento Della torta Ma dentro Non c'è nulla È tutto chiuso L'ho fatto Ma non l'ho utilizzato Ora invece passiamo A due cose bellissime Della mia vanilla Ovvero Sir Polpo E Lady Polpo Chi sono? Sir Polpo È un Polipo Sir Quindi Di alta classe Messicano Infatti si vede anche Dei grandi baffoni Con il monocolo E il cappellino Naturalmente La sua donzella Ovvero Lady Polpo Che anche se è messicana E quindi ha i baffi È con un bellissimo Fiocchetto Dove Sir Polpo Al suo interno Ha la farm Di pesca ragazzi Completamente Funzionante Mentre Lady Polpo Al suo interno Ha la casetta Della mia Ragazza Una casetta Molto carina Molto simpatica Vi consiglio Andarvi a vedere L'episodio Abbiamo fatto insieme Per crearla Mi piace veramente Un casino Molto bella Visto che è notte ragazzi Ne profitto subito Per andare a letto Opla 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 Scendiamo Per così Ottimo Dorniamo E alla volta Del nuovo giorno Andremo a vedere Le altre cose Partiamo di nuovo Con i razzetti Perché andiamo Adesso Vicino Al mulino Guardate qua C'è tutto questo Mega mulino Veramente bellissimo E spettacolare Peccato che non funzioni Veramente E all'interno Abbiamo Questa piccola stanzetta Che non è altro Che è la mia farm Di angurie E di zucca Che è Oh mio dio Quanto è OP Raga È troppo OP Mamma mia Comunque premendo Questo bottoncino Spaff Eh ecco Comunque premendo Questo bottoncino E vabbè Comunque premendo Questo bottoncino Risaliamo E possiamo E possiamo uscire Staghetto Bottone Si sale E Opla Siamo fuori Mangiamo un paninetto E ora E ora ragazzi Episodi più belli Quindi si mi piacciono Mi piacciono parecchio Qui ho fatto E qui ho fatto uno speedy build Veramente bellissimo E qui ragazzi Abbiamo appunto il nostro villaggio di Natale Che cosa è successo qua Non sono stato io Ve lo giuro Ok Comunque premendo questo bottone Si aprirà il passaggio segreto Eccolo Dove dentro abbiamo la nostra farm Di neve E ne approfitto subito ragazzi Per raccogliere La neve Ok Per fare dei blocchi Così Così fixiamo subito qua Che non so minimamente Cosa sia successo Perfetto Fixato Premiamo Il bottoncino Ed ecco qua Che si va a richiudere Qua invece abbiamo I quattro regali Per i mails Quello per Vegas Per Anima Per Stepney E per Suri Dove nell'episodio Abbiamo messo Degli oggetti Da regalarghi Qua abbiamo tipo Un alberello Fatto con Gli stecchini di zucchero Una casetta Di marzapane Con anche Un secondo piano Con un lettino Si può vivere qua dentro E qua ragazzi Abbiamo una gru Dove da questo piccolo buco Solleva un mega pacco Regalo Bellissima come idea E naturalmente C'è la slitta Con le renne Di babbo natale L'ultima cosa Da farvi vedere Anche se Leggermente inutile Infatti mi sa Che forse L'andrò a saltare Direttamente E' la miniera E' una miniera Molto organizzata Se volete assumere Qualche episodio Sempre di mining Fatemelo sapere qua sotto Nei commenti Che le andremo a fare Nel nether ragazzi Non ci andiamo Perché ancora Non ho fatto nulla Ebbene si Dopo 150 episodi Nel nether Non ho fatto nulla ragazzi Completamente nulla Avviciniamoci adesso Un attimo Qui Dove c'è Questo piccolo gust In stile sempre Kibichibi Dove al suo interno Abbiamo una lacrima Di gust Questa lacrima di gust E' stata droppata Dal gust Che abbiamo portato Nell'overworld Cioè ragazzi Un gust In questo mondo Un episodio Veramente pazzesco E assurdo Questa zona ragazzi E' finita Manca soltanto L'ultima cosa Ovvero una cosa Nell'end Quindi ragazzi Direi che ci vediamo Subito Nel portale Per andare Nell'end Ok ragazzi Siamo arrivati Nel portale Per andare Nell'end E quindi Buttiamoci Eccoci qua Come vedete Abbiamo sconfitto Tre volte Il drago E si L'abbiamo fatto Per Per diversi motivi Comunque Quello che dobbiamo fare Noi ragazzi E seguire Questo tunnel Qua Infatti Questo tunnel Ci porta Direttamente Nella nostra farm Di enderman Ma non è una farm Di enderman Normale Diciamo E' un pochino particolare Non per il funzionamento Ma bensì Per la sua Costruzione Oltre al fatto Ragazzi Guardate Quanto efficace E' troppo Efficiente C'è qui Livellare Non ci vuole Completamente Nulla Perché è particolare Ragazzi Beh Per La parte superiore Mi allontano un attimo Così ve la posso Mostrare Completamente La farm Di enderman Nella Nostra Vanilla Ragazzi E' un UFO E' un UFO Con un raggio Che dovrebbe risucchiare Gli enderman Da terra Ma in realtà Li butta a terra Dettagli Ma è un UFO A tutti gli effetti Andiamo adesso a vedere Con l'elitra Guardate Che è figata Ragazzi E' un UFO Veramente Bellissimo E' Spettacolare E anche di questo qui Ho fatto uno speed build Molto bello C'è E' E' maestoso E' molto bello Nessun c'è mai pensato Di trasformare La propria Farming Di enderman In un UFO In un disco Volante Perfetto ragazzi Mi sa che le cose All'interno della nostra Vanilla Siano finite qui Se mi sono dimenticato Qualcosa Scrivetelo qua sotto Nei commenti Se mi sono veramente Dimenticato qualcosa Riceverete un cuoricino Al commento Beh ragazzi Detto questo Io direi che questo Tour Della nostra serie Di minecraft Partita della nostra Vanilla Può anche Finire qui Quindi ragazzi Questo io finisce qui Spero vi sia piaciuto Sì sì Fatemi sapere con un pollicino in su Un commento qua sotto Vi ricordo di passare in descrizione Perché mi sono tutti i link Dei miei social Come instagram e telegram Mi raccomando Seguitemi su entrambi Detto questo Mi invito come sempre Ad iscrivervi al canale Se in grado mi siete iscritti All'interno della campanellina Volendo per iscrivervi al canale Basta che cliccare Nella data Che sta qui Cendendo lo schermo E se ce l'avete fatto Potete cliccare Ai lati Per vedere Un altro mio video In questa volta C'è un piccolo cambiamento Vediamo chi riesce a indovinarlo Allora ragazzi Detto questo Io vi saluto E ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao a tutti